Musica Saluto tutti i rappresentanti dell'amministrazione comunale che si intedono a questo momento particolarmente importante per l'amministrazione comunale se mi consentite per il corpo della pulizia municipale che qui è ospitato in questa struttura e in questa camera saluto particolare vedo qualche decina ritengo orientativamente La mia funzione capita una vicenda di questo tipo che è certamente lontano dalla materialità e della quotidianità ma soprattutto perché evidenzia lo spirito e di questo l'ha dato atto e ringrazio personalmente per il nome del corpo come questa pubblica amministrazione e il governo locale ha voluto specificamente distinguere con questo atto, ovviamente con la vostra presenza e vi ringrazio ancora, dare un suggerito particolare ha voluto dedicare un'attenzione particolare alla polizia municipale La benedizione di Dio Onipotente Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre Applausi Sì, 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 sì appena... Sì, sì Stanno stattendo Devete vedere... Devevi と progressione Poi, ora Pa, pa Pa Plessi Sì Falt